il signor romolo giovagnoli ci deve accompagnare perché avete bucato giovagnoli si è fottuto zingoni ma scusi io sono feroce rapinatore questa è una rapina aiuto adesso chiama i gherbinieri ecco brava ma quello lì ma che è muto no 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 è psicopatico un pazzo amicidio ma ha preso un colpo io sono l'avvocato romolo giovagnolo si bucato di studio ma l'amante tua come la buona valeria è una bomba sexy mia moglie per vendicarsi è andata dal magistrato gli ha raccontato tutto quello che sapeva sui miei affari leciti ah ma no ma vuoi finire con sta cannuccia che fa ma organizziamo una partitella che dite regà siete buoni ma tanti sei risolta sta maglietta non bastava la galera pure l'evasione ci voleva ma quello è il problema troviamo un telefono chiamami carabinieri e ci facciamo riporto a caccia se la gente ci conoscesse meglio capirebbe quanto siamo buoni profondi sensibili quanto è bello qua ma guarda che c'è lo bello di notte e soprattutto due persone serie a a Oh, 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 oh